Abbiamo deliberato anche l'entità del contributo determinandolo in 800 euro per le famiglie che hanno due persone a carico e con questo stanziamento si esauriva al fondo da 5 milioni. Nel frattempo, proprio perché le domande sono state molte e il livello di bisogno e di nuove povertà è diventato davvero allarmante, con la legge 10 pochi giorni fa il Consiglio regionale ha rifinanziato questo bonus mettendo altri 7 milioni. Con delibera di giunta abbiamo distribuito anche sulle restanti categorie, quindi chi ha un figlio a carico, nessun figlio a carico, famiglie monoparentali, tutto il resto di questi fondi. Di fatto noi andiamo a esaurire l'intera gradatoria, quindi chiunque ha manifestato una situazione di bisogno e ha partecipato al bando per il bonus famiglia, nei prossimi giorni riceverà il bonifico sul proprio conto corrente, sul conto corrente che ha indicato. Io mi appello al governo perché le misure devono essere prese con spalle molto più larghe di quelle di una gracile regione che non ha possibilità di indebitarsi e quindi per trovare questi fondi abbiamo dovuto anche raschiare il fondo del balire e finanziare altri interventi. Invito il governo a farlo, a farlo in maniera veloce perché le misure finora annunciate ancora non atterrano, soprattutto non si vedono fondi. Il reddito di emergenza che doveva servire un po' come il bonus famiglie a dare una risposta a chi era rimasto fermo, a chi non ha più uno stipendio che corre, a chi non ha più un'attività che produce reddito, se va bene lo cominceremo a vedere applicato a luglio e per chi è rimasto fermo già dalla prima settimana di marzo, luglio è troppo lontano.